Andiamo in Italia, si intitola Fai parlare la tua bocca e il libro in braille presentato oggi in Campidoglio al sindaco di Roma Alemanno dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. E' un manuale scritto appositamente per chi ha minoranze visive, amminorazioni, pardon, visive. Contiene tutte le informazioni sulle malattie del cavo orale e i servizi offerti dal primo ambulatorio in Italia realizzato espressamente per i pazienti disabili visivi presso l'istituto Istman Grazie